e attenzione ciclomania resting Ferrari, Bogoni, Braghi, Paucillo, Simone e Mattia Mirko Gamba, Enrico Penso, bravo superi finale di Mastro, 17 più finessi e allora andiamo a vedere davanti a tutti ciclomania resting rapidita d'azione per Ferrari e super veloce attenzione però con il numero 558 se viene Simone Paucillo del Caravaggio adesso ancora abbiamo la trinta del Verona tra Enrico